a livello individuale, vicino a lui si avvicina il caporamaggiore scelto Luigi Conga, altro atleta molto molto forte della sezione di parcautismo che in questo momento con una videocamera sul casco sta filmando l'atterraggio di questo meraviglioso tricolone. Come potete vedere man mano che la bandiera si avvicina si apprezzano le reali dimensioni della bandiera. In questo momento il luogotenente Tressogni atterrerà di fronte allo schieramento, invece il caporamaggiore scelto Conga atterrerà per poter effettuare una buona ripresa alle spalle dei reparti. Ultimi metri, ultime correzioni.